Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, e il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, signori, questa notte, in occasione del Super Bowl, Marvel Studios e Disney hanno pubblicato il nuovissimo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3. Trailer che mi è piaciuto un sacco, così come mi è piaciuto tantissimo il primo, anche se il primo l'avevo trovato più carico di emozione, ma va fatto venire il super magone, i lacrimoni, complice anche la colonna sonora, che anche qui è fantastica, ma secondo me è meno emotiva. Trailer comunque veramente magnifico, che calca un pochino più la mano sull'azione e sulle risate che vedremo appunto nel capitolo finale dei Guardiani, scritto e diretto da James Gunn. E già mi prende male la cosa, perché l'ho sempre detto, lo continuerò a dire, fino a quando non uscirà il film e anche dopo il pensiero che non vedremo più questi Guardiani, non li vedremo più diretti da Gunn, un po' mi fa piangere il cuore, perché sicuro qualcuno ci lascerà le penne durante questa pellicola, o se ne andrà comunque questo gruppo non rimarrà più così formato. Magari qualche personaggio, tipo non lo so, Star-Lord o Mantis o Groot, rimarranno comunque nell'universo Marvel, ma non nella formazione dei Guardiani. Comunque ragazzi, partiamo subito con l'analisi del trailer, perché ci sono un sacco di nuove scene, un sacco di momenti toccanti e direi di cominciare. Il trailer infatti si apre facendoci sentire Star-Lord che parla e racconta di come ha formato i Guardiani. Nel frattempo vediamo Rocket camminare in una stanza dove c'è Peter, direi abbastanza sbronzo che lo vede arrivare. Subito dopo lo vediamo guardare con sguardo profondo verso un'esplosione e lo vediamo combattere all'interno di un posto e credo che questa scena sia vicina a un limitrofa a quella di lui all'interno del bar, perché comunque questa maglia bordeaux credo che si andrà a collegare anche a una scena che vedremo nel finale, che avevamo già visto nel primo trailer, dove tutti camminano con lui svenuto, perché Rocket indossa la stessa giacca. Poi andiamo avanti perché vediamo appunto il gruppo camminare in mezzo a questa esplosione e tra l'altro si vede nuovamente quella creatura strana tra Nebole e Mantis, che avevamo già visto nel primo trailer, ma che qua vediamo più avanti nel dettaglio e scopriamo essere appunto una sorta di creatura alieno barra cagnolino strano che sarà abbastanza presente all'interno del film. Peter poi racconta di come ha conosciuto Gamora, di come i due si sono innamorati, di come lei sia morta appunto in Avengers End of the War e come sia tornata e lui dice che è tornata come una stronza, perché appunto è questa versione che arriva dal passato, che non ha mai conosciuto i guardiani, come abbiamo visto in Endgame, che non si è mai innamorata di Star-Lord, loro sicuramente andranno a cercarla, la troveranno. Lei non prenderà bene l'avvicinamento del nostro Peter Quill, così come non l'aveva preso bene neanche in Avengers Endgame, infatti viene lanciato via contro questi monitor. e qua vediamo i due insieme a Nebula in questa sorta di prigione, credo che siano appunto nel pianeta dell'alto evoluzionario, perché poi nella scena dove ci sono loro che scappano più avanti hanno indosso le stesse tute e qui appunto c'è Star-Lord che dice che è tornata come una stronza e Nebula che dice sì, in realtà la storia è stata un pochino più ampia di come la racconti, ma tutto sommato è ragione. E tra l'altro voglio farvi vedere il nuovo braccio di Nebula che ha la capacità di trasformarsi, infatti più avanti vediamo che diventa una sorta di lama. Ma comunque andiamo avanti col trailer, vediamo la scritta Marvel Studios, vediamo Rocket alla guida della Bowie e subito dopo passiamo dall'alto evoluzionario. Qui alternano un sacco di scene flashback con scene del presente e lo possiamo capire appunto dal design stesso dell'alto evoluzionario che qui ha questa faccia tirata perché appunto credo abbia fatto degli esperimenti su se stesso. Vediamo la Bowie arrivare in quello che credo sia appunto il laboratorio barra pianeta dell'alto evoluzionario e qua lo vediamo in versioni più giovane quando ancora era molto più umano dire che lui appunto desidera ricercare la perfezione. Vediamo quindi il momento in cui sono stati fatti gli esperimenti sul nostro povero Rocket Raccoon con questo frame già strappacuore di lui, con questo sguardo profondo quando è piccolissimo e in più ci hanno aggiunto quest'altro che ragazzi io so già che nonostante sarà un flashback piangerò tutte le mie lacrime in corpo perché non posso vedere certe scene a schermo. In tutto questo sentiamo Rocket dire che lui in realtà non vuole raggiungere la perfezione, vuole solo cambiare quello che non gli piace. Vediamo un tatuaggio sulla pelle molto probabilmente di Rocket con scritto 89P13 che era appunto il codice di Rocket Raccoon, infatti non so se vi ricordate quando venivano arrestati nel primo guardiano della galassia Rocket veniva chiamato appunto soggetto 89P13 e si vedeva anche nella schermata. Qua abbiamo questa scena fighissima dove vediamo l'alto evoluzionario che sta per appunto tagliuzzare il povero Rocket e lo vediamo riflesso nei suoi occhioni. Vediamo Groot con aria triste e credo che questa sia proprio la scena dell'ospedale dove abbiamo visto anche Star-Lord piangere e urlare nel primo trailer e volevo farmi notare che sullo schermo in alto a sinistra possiamo vedere la sagoma di Rocket. Per questo motivo secondo me Rocket Raccoon non morirà perché Gunn non è scemo e non penso che spoileri così la morte di un personaggio all'interno del trailer anche perché più guardo questo trailer più guardo quello precedente e più il tutto mi ricorda la run di Donny Cates perché ci sono alcune cose super in comune come ad esempio il momento in cui vengono rinarrate le origini di Rocket cioè questa vignetta è identica a quella del frame del film e soprattutto perché anche nel finale c'era questa scena con Rocket in ospedale e tutti i guardiani che lo andavano a salutare ma non moriva semplicemente stava male ma non lo facevano morire sul fumetto quindi secondo me avrà un incidente starà male però non credo che morirà magari gli faranno un salvataggio ne uscirà un pochino più potenziato se devo puntare il dito su una possibile morte vi dico quella di Drax che per me è il più papabile soprattutto per la sua storia il fatto che così facendo si possa riunire alla moglie e alla figlia il fatto che Dave Bautista ha ufficialmente dato l'addio al Marvel Cinematic Universe che con questo film l'ha già detto che non sarà più presente all'interno dell'universo Marvel e quindi per me uno di quelli che morirà è sicuramente Drax e poi magari non morirà nessuno si separeranno e basta però comunque attendiamo, dubito e spero soprattutto che non sia Rocket qua lo vediamo con aria triste, vediamo qualche frame di Gamora, questa l'avevamo già vista nebula super malconcia e qua vediamo come vi dicevo Optima la trasformazione del suo braccio che diventa questa lama infuocata, fighissima altre scene di combattimento, qui abbiamo Drax, Gamora, Mantis, Starlord e Nebula e credo stiano andando verso appunto il pianeta dell'alto evoluzionario dove c'è la prigione sono solo loro cinque, infatti poi nella scena più avanti li vediamo appunto solo loro cinque tra l'altro i colori delle tute sono quelli delle gemme dell'infinito qui invece vediamo Groot e Starlord dall'alto evoluzionario e quindi tutte le scene del trailer dove c'è questo fondale fatto a quadratoni rossi sono appunto dall'alto evoluzionario tra l'altro fighissimo il design così col fatto che ha fatto esperimenti su se stesso che si è tirato la pelle, super super curioso vediamo finalmente Kraglin che credo e spero sia in grado di controllare la freccia di Yondu e poi qua vediamo Drax anche lui malconcio, succederà qualcosa di veramente brutto poi le loro tute hanno delle sorte di segni di bruciature come se li avessero sparato contro questo onestamente non so cosa possa essere l'ho visto nel trailer, ho zoomato un po' credo che siano sempre dall'alto evoluzionario però assolutamente non idea se quella cosa in fondo è una sorta di robot o una creatura modificata qui abbiamo sempre l'alto evoluzionario e lo sentiamo dire di incenerirli tutti quindi credo che sia un momento appunto flashback in cui decide di distruggere tutte le sue cavie spero di no perché anche lì non potrei reggere in sala vediamo finalmente Adam Warlock mentre si muove per mezzo mondo mentre sta venendo distrutto e qua vediamo Gamora scappare e tenere in braccio un malconcissimo e anche direi mezzo svestito Rocket credo che appunto loro andranno a Half-Word a mezzo mondo che è appunto la scena iniziale del primo trailer con tutte queste creature antropomorfe e il pianeta in qualche modo si autodistruggerà per colpa appunto dell'alto evoluzionario o per cose che succedono infatti secondo me tutte le scene che ci sono in questo trailer di loro tutti sbruciacchiati che piangono non è perché è morto qualcuno dei guardiani ma semplicemente perché è esploso mezzo mondo e sono morti appunto tutti i loro abitanti compresi i bambini quindi ci sta che sia un momento in cui loro sono particolarmente emotivi e tristi qua vediamo Groot atterrare in testa a Adam Warlock e qua vediamo il piccolo Rocket insieme a Laila ridere all'interno della loro cella anche questo sarà un flashback, secondo me sarà molto lungo il flashback di Rocket e credo che il film cominci proprio così, facendoci vedere le origini di Rocket vi ricordo inoltre che Laila nei fumetti è anche lei nata su Mezzomondo così come credo avrà anche nel film ed è l'interesse amoroso di Rocket qua vediamo Star-Lord, il nostro Peter Quill insieme a Groot iniziare un combattimento sempre ad alto evoluzionario potete vedere appunto lo sfondo rosso a quadrettoni scena pazzesca di Rocket e Laila che si abbracciano Cosmo, in tutto questo c'è un discorso appunto sulla famiglia che l'hanno appunto trovata tra di loro per questo mamma mia ragazzi sarà super emotivo Nebula che festeggia e Star-Lord e Gamora insieme insieme a quella creatura che si vedeva nel piccolo appunto all'inizio del trailer nello scorso e loro due che sembrano riavvicinarsi anche se non lo so se i due si ritroveranno sempre combattimento, qui vediamo che c'è sempre Groot e Rocket l'idea che mi sono fatta riguardo che Rocket in qualche maniera scoprirà che Laila è ancora in vita e andrà appunto a salvarla dall'alto evoluzionario tra l'altro questa scena è fighissima qui abbiamo sempre Adam Warlock lo vediamo mentre combatte con Drax secondo me se li girerà tutti perché già nel primo trailer lo vedevamo contro Nebula qua l'abbiamo visto contro Drax e contro Groot quando arriverà secondo me si scontrerà con tutti e sono curioso di sapere più che altro il suo ruolo all'interno della pellicola perché per come credo che sia strutturata sarà molto Rocket centrica sulle sue origini eccetera e sono curioso di vedere come ci ha infilato Warlock qui in mezzo che mi sembra veramente l'incognita un pochino più staccata da tutto il resto della tematica del film qui vediamo comunque sempre Star-Lord a dire se combatteranno insieme qua vediamo appunto come vi dicevo prima tutte le bruciature sulla tuta di Nebula Mantis con gli occhi lucidi che piange secondo me qui sarà verso la fine del film il momento in cui decideranno di separarsi perché comunque non rimarranno insieme come gruppo ne sono sicuro rimarranno piccoli gruppi magari non so Rocket e Groot Mantis e Star-Lord qualcuno morirà non lo so vediamo o estrema fiducia in Gun abbiamo poi questa scena in questa sorta di prigione con Drax che lancia via uno e qua mentre esulta se ci fate caso alle sue spalle c'è un tizio con questa armatura arancione che è pronto a sparare e secondo me sarà il momento in cui appunto gli spareranno alle spalle come vediamo più avanti dato che ha una bruciatura che lo passa da parte a parte non credo che muoia qui Drax cioè mi aspetto che muoia in un combattimento epico però sicuramente si farà molto molto male in questo momento qua vediamo l'altro evoluzionario levitare mentre sta esplodendo tutto attorno a sé sembra veramente figo come villain non vedo l'ora di vederlo e qui scena che abbiamo già visto nel primo trailer del nostro Peter Quir che placca qualcuno e si lanciano giù dal laboratorio dell'alto evoluzionario Mantis che saluta e Drax che sembra ricambiare il saluto ma non fatevi fregare dal montaggio perché potrebbero essere appunto momenti diversi montati per far finta che siano consecutivi poi andiamo avanti vediamo Peter scappare mentre sta esplodendo tutto attorno a sé e poi abbiamo questa scena con loro tutti sbrucciacchiati e feriti che guardano qualcosa e piangono nel caso di Mantis e sono abbattuti nel caso di Nebula e credo che sia appunto come dicevo prima il momento in cui è appena esploso mezzo mondo sono morti praticamente tutti i suoi abitanti e Nebula ci rimane parecchio male voglio inoltre farvi notare anche se ormai abbiamo capito tutti come funzionano queste cose che c'è un buco sospetto tra Mantis e Gamora credo che abbiano tolto in digitale Starlord e Rocket perché per come sono stati montati questi primi due trailer cercano di far passare allo spettatore che uno tra Starlord e Rocket possa morire per questo secondo me quello che morirà è appunto Drax infatti di togliere qua magari un Rocket Raccoon potrebbe far pensare a qualcuno che ok è morto Rocket e stanno piangendo in quel momento subito dopo vediamo Peter urlare in ospedale credo che appunto ci sarà questa scena di Rocket tutto intubato come nel fumetto non sono pronto non sono psicologicamente pronto per niente loro che scappano con la Bowie da questa sorta di mondo nel quale si sono lanciati con le tutine e poi la scena che vi dicevo all'inizio del trailer con Rocket che ha sempre indosso questa sorta di tuta e Starlord che sembra apparentemente morto ma credo sia semplicemente svenuto che viene portato da che viene portato da Nebula anche perché a parte Mantis Rocket e tipo Kraglin mi sembrano fin troppo tranquilli logo di Guardiani della Galassia volume 3 e poi per concludere abbiamo questo siparietto comico nel finale molto divertente tra l'altro con Gamora che dice a Peter guarda che la donna che stai descrivendo e di cui dici di essere innamorato somiglia più a lei riferendosi a Nebula che a me con loro due che si guardano schifati però poi Peter si gira verso Nebula e le dice oh ma non mi ricordavo che avessi gli occhi così profondi e lei risponde impiantati mio padre Thanos come forma di tortura e lui dice sì però non ha scelto un paio molto carino insieme a tutto questo è uscito anche uno spot sempre in occasione del Super Bowl che ha qualche frame in più e ha una scena comica finale diversa in cui vediamo semplicemente Drax su Mezzomondo che si sdrai sul divano e Peter che gli dice no non ti devi sdrai sul divano e lui risponde che non è uno stupido è ha fame ma nulla di particolarmente rilevante quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto mi raccomando fatemi sapere secondo voi chi è che morirà perché qualcuno di voi è ancora convinto che Rocket ci possa lasciare le penne secondo me no fatemi sapere nei commenti chi ci lascerà chi si separerà e come andranno le cose perché sono estremamente curioso ragazzi se avete trovato altri riferimenti altre chicche anche quelle mi raccomando segnalatemele quindi io vi ringrazio e vi ricordo che ci vediamo al prossimo video ciao ciao